Per giustificarvi di essere qui per questo nuovo piccicato corpo, una cosa che abbiamo negoziato rapidamente con Cesare Pietro Giustico qualche giorno fa, in effetti c'è una pertenenza perché da storico della medicina precisamente mi sono occupato di corpo per molto tempo, però il corpo non l'ho studiato in sé, ma quello che mi interessava era cercare di capire quali erano le forze in gioco intorno ai conti, intorno al corpo, cioè che cosa succede intorno a me e a un certo punto mi sembra di capire che questo corpo fosse diventato, fosse e sia sempre stato una specie di catalizzatore di valori e di interessi che lo rendono un'entità ma intorno al corpo si sviluppano conflitti, scontri di carattere tanto culturale ma anche sociale, economico e politico, quindi quello che mi interessa è questo corpo che sta in mezzo a tante cose, a tanti altri conti su cui si giocano una serie di battaglie. di questo modo mi sono reso conto, diciamo da giovane, in particolare studiando banalmente la storia dell'anatomia, mi sono reso conto studiando questo che non mi trovo tanto messo, mi sono reso conto che intorno al tavolo anatomico in realtà davvero si giocavano delle partite di potere. La dissezione anatomica era un momento in cui diversi attori religiosi, politici, professionali si stavano giocando una partita di potere, di controllo e di egevoria sul corpo, si giocano delle terapie, si decide intorno a quel tavolo chi può andare dentro al corpo, chi può curare il corpo solo da fuori, chi può usare solo parole per curarli, chi può invece soltanto fare le operazioni, insomma si giocano una serie di cose che muovano anche a fare con l'economia, con la politica, con la religione, con la morale e questo genere. E ho continuato questo, ho poso quest'idea in quanto del rapporto tra lingua e le cina, che cosa sono fatti 10 nel teatro, diciamo, a rinnovare la classica, la classica è la pandemia che mi ha fatto, diciamo, dal 400 all'interno al 700, insomma, un corpo con noi, un nuovo raccordo con i moderni, quello che mi interessava in fondo è il rapporto con i moderni, che ci tra, con i moderni e moderni. Ora, questo giustifica già un po' di una in quanto, diciamo, anche nel contesto più generale che stiamo parlando. Su questo rapporto tra gruppo potente, come ho detto un po' mi ha perseguitato, mi sembrava che avrebbe una questione capitale. Cioè, lì dove la questione del punto risponeva sul corpo è la definizione dello statuto di questo corpo, che il corpo è un oggetto o un soggetto. Cioè, c'è un soggetto con un corpo e un oggetto. Potremmo dire che c'è un corpo con la storia e un corpo senza storia. il corpo soggetto c'è la storia e il corpo oggetto non ha storia. La storia è rullata. E, essendo una storia della medicina, diciamo, il corpo oggetto è esattamente quello a cui tende tutta la tradizione medica, diciamo, il sogno della medicina, di tornare la medicina, e arrivare nel corpo oggetto pubblico. Dall'altra parte si trova il sogno di fronte di pazienti che incarnano soggettivamente questi corpi e si trovano quindi in una posizione un po' che si trova in una posizione di tensione, rispetto a quello che è il soggetto materiale. Una tensione fondamentale che la trova la voce, quello tra oggetto e soggetto, diciamo, un po' d'accordo con la storia e con la realizzazione storia, va bene con il sogno. Devo scantire di più. Una tensione che si ritrova, come dire, riflessa in tutta la letteratura antropologica contemporanea. La letteratura di cui ne parla spesso, ricordo semplicemente un pezzo di quel bellissimo libro di Morosa, che si chiamava L'invenzione, dove raccontando la portata in patria, fa una serie di riflessioni esattamente su la differenza che c'è tra un uomo con il corpo e il corpo di un uomo. Le Malle Gramsci. Le Malle Gramsci, quando si chiamava tutti di lunga, in particolare, quando si chiamava di carcere su che cos'era la terra umana. O più di recente, a parte della riflessione che è una tradizione filosofica e giuridica, quindi, recente, quello che fanno per le esplosioni, un libro che ha prescritto le persone alle coste. Ora, proprio di questa tensione, di questa tensione del proprio soggetto, vorrei parlare, rivenendo un po' a quello che vi ho visto, tanto nel video quanto nella monografia dell'esame. e lo farei esattamente su due, spero di tempo, elementi che hanno incenerato la sua creazione e il suo progetto sui gesti della tessitura delle memorie spezzate. Due elementi, il primo quello del paradismo, su cui ci siamo poco incontrati, e un altro quello del Alzheimer. Entrambi i fenomeni, mi sembra, hanno molto a che fare proprio con la questione dell'oggettivare il corpo, oppure di conservare il soggetto. il terzo video di Guilber, quindi è stato registrato, quando l'avessato ascolto a Martà, la campagna di Martano, una conversazione tra me e Luigi Trianti, Luigi Trianti che è uno studioso di tradizioni popolari salentine autodidatta, come Amadeus Nils. La questione di Luigi è che c'entra il trantismo con quello che l'Arizona sta facendo. Forse, forse, che cos'è il trantismo? Immagino che tutti sappiate che cos'è il trantismo, però forse è bene che dica due parole. Il trantismo è anche un fenomeno curioso che succede. Allora, tutto quello che dico è falso. Diciamo, la versione semplificata di una cosa che mille volte che non puoi sapere semplificare, ma devo dire che non puoi essere riusciti. Allora, la teologia è un fenomeno giudico e unico del trantismo. Tutti quanti, meno male, l'astrogeo, il trantismo, l'Arizona, sappiamo che in fondo non è bene. C'è anche l'Arizona. È un fenomeno di lunga durata, questo è vero. Per quello che sappiamo, per quello che io so, da storico, posso datare sulle fasi di documenti, il primo caso del trantismo documentato, 1362, l'ultimo caso del trantismo documentato, maggio del 2000. 1362 è un medico, che scrive un piccolo trattato sui veleni, che ha un contatto che ha dedicato al Papa. in questo trattato si vedete da una descrizione del trantismo. L'ultimo caso del trantismo, quello del 2000, è raccontato in un'intervista fatta da un amico, un compiato amico, Sergio Tassello, a un musicista, a un musicoterapeuta, poi a un musicoterapeuta, e racconta che l'ultima persona che lui ha curato, è stata andata da un medico di un paese, che non riusciva a curare questa persona, la domanda, quindi, quindi il fenomeno del problema. L'altro elemento, che mi sembra interessante, è che è un fenomeno, dove ci sono interpretazioni di conflitto per secoli, fino ad oggi. Che cos'è il trattamento? Il vostro trattamento secondo, dieci minuti del documentario, forse qualcuno lo conosce, provo a vedere la storia. La storia è veramente questa. Delle persone, si dice delle donne, questo non è vero, che sono pescate da un ragno specifico, che si chiama tarantola, ma in realtà, non è un altro ragno che lo conosce. Ad esempio, queste persone manifestano, nel periodo del grande calore, in particolare, dalla fine giugno e la fine di luglio, manifestano una serie di sintomi, degli altri, abbastanza diretti, di situazioni, qualificazioni, tremori, angosce, freddi, che caratterizzano questo tipo di malattie. L'unica, in farlo antico, che è l'unico modo per un parlo, è la musica e il manda. Si fa delle musiche, si fa delle musiche, che conoscerete i quadri, che è strasentita, forse non è un problema più bizzi, cosa deve dire. Sono delle musiche che inducono l'allehanza, ogni persona ha la sua musica giusta, che sono musica particolare, legata al tipo di ragno, al momento in cui si è rizzicata, e poi al temperamento della persona. Quindi, sono musiche personali, in qualche modo, oppure per frutto. Questa guarigione è temporaria. La guarigione è temporaria, si passa un anno, senza un sito, arrivati di nuovo alla stagione, in realtà, il sito che si ripropone, e ho bisogno di somministrare, musica e danza, nell'allehanza. Piuttosto che continuare a descriverlo, io vorrei, perché vedessi insieme questi pochi minuti, di un documentario che è stato fatto nel 1962, da Gianfranco Nungozzi. Un documentario che è stato, come dire, che ha avuto la supervisione di Ernesto Trattino, che ha scritto il libro di Cortazzo, che è stato sul tarantismo, che è la terra del divorzio. Un documentario che ha un commento politico, paternalistico, di Salvatore Quasimolo, insomma, io vedrei più tutti questi pochi minuti. È interessante, è interessante guardarlo, pensando anche alla performance che ho visto. in alto, in alto,